Bene, ragazzi, allora riprendiamo da dove eravamo arrivati e dunque correggiamo l'esercizio di pagina 521, numero 11, dopodiché passiamo agli altri esercizi. Tutto l'aspetto laboratoriale, per cui poi non vi lascio compiti per casa, per dopo, quindi va bene, no? 11. Nelle seguenti vignette, individe e sottolinea in rosso i due pronomi relativi che è con funzione di soggetto e in blu i due pronomi relativi che è con funzione di complemento oggetto. Vediamo la prima vignetta del fumetto Mafalda. Ciao Manolito, hai quel sapone in polvere che reclamizzano alla tv? Soggetto sottinteso tu, hai, predicato verbale, quel sapone, sapone, complemento oggetto, che reclamizzano alla tv? Nella proposizione che reclamizzano alla tv, il predicato qual è? Reclamizzano. Il soggetto qual è? Sottinteso essi. Quindi, essi reclamizzano il sapone alla tv. Il sapone qui è sostituito da che, quindi che è complemento oggetto, andava in blu. Con la gente che non ragiona non c'è niente da fare. Che non ragiona? Non ragiona è il predicato. Di chi parla del predicato? Della gente. La gente in che non ragiona. Da chi è rappresentato dal pronome relativo che, quindi che è soggetto, andava in rosso. Vignetta numero tre. Oggi sul giornale c'è una notizia deprimente. In tutto il mondo ci sono 43 milioni di bambini che lavorano. Purtroppo oggi sono di più. Che lavorano. Nella proposizione che lavorano. Lavorano. Chi è il soggetto di lavorano? Bambini. Da chi è rappresentato nella proposizione che lavorano il termine bambini? Dal pronome relativo che. Quindi che è in rosso. Perché è soggetto. Numero quattro. I giornali. I giornali inventano la metà di quello che scrivono. In che scrivono. Scrivono. Soggetto. Essi. Soggetto sottenteso. Che. Cosa sarebbe? Inventano la metà di quello. Quello. Che è complemento oggetto. E va in blu. Adesso facciamo il laboratorio. Dunque. L'esercizio di pagina 519. L'esercizio 1, 2, gli esercizi 1, 2, 3 e 4 li abbiamo fatti. Abbiamo poi anche fatto di pagina 520 e 521 gli esercizi 5, 7 e 11. Rimangono da fare gli esercizi 6, 8, 9, 10 e 12. 6, 8, 9, 10 e 12. No scusatemi il 9 l'abbiamo fatto. Perdonatemi. Perdonatemi il 9 l'abbiamo fatto. Quindi scusatemi mi sono sbagliato. Delle pagine 520 e 521 rimangono da fare solo il numero 6, il numero 8, il numero 10 e il numero 12. Allora vi prendete dunque 2, 3, facciamo finta 4, 6, facciamo finta 4, 10. Vi prendete 13 minuti, anche 12, e sono fin troppi, per fare gli esercizi delle pagine 520 e 521 numeri 6, 8, 10, 12. E ci vediamo fra poco, quindi. 6, 8, 10, 12, fra 12 minuti circa. Stoppate il video e ci vediamo fra un po'. Bene ragazzi, allora, riprendiamo. Se non avete fatto gli esercizi, stoppate di nuovo, andate a rifarli. Allora, numero 6, nelle seguenti proposizioni indica in parentesi se il complemento oggetto evidenziato è costituito da un nome, da un aggettivo, da un pronome, da un verbo, da un avverbio, da una congiunzione. L'avevamo spiegato ieri, il complemento oggetto, basta che sia una parte del discorso sostantivata, può essere svolto da qualsiasi parte del discorso, appunto, sostantivata. Allora, numero 1, lo abbiamo saputo dai giornali. Questo lo significa quella cosa l'abbiamo saputa dai giornali, quindi è un pronome. 2, unite l'utile al dilettevole. Scusatemi, utile che cos'è? È un aggettivo. 3, continua a dire, ahimè. Ahimè, è una interiezione. Andatevi a rivedere le interiezioni, eh. 4, i bambini amano giocare. I bambini, soggetto, amano, ha predicato che cosa? Giocare, in questo caso è un verbo sostantivato, che svolge la funzione di complemento oggetto. 5, mi presti il righello. Il righello è chiaramente un nome. 6, spiegami il perché di questo comportamento. Perché era una congiunzione. Tu, soggetto sottinteso, spiega, predicato verbale, mi, a me, complemento e termine, che cosa? Il perché è una congiunzione sostantivata. Sostantivata come? Mediante l'aggiunzione, prima della congiunzione stessa, dell'articolo determinativo, il. 7, non voglio la tua penna, ma la sua. La sua, in questo caso sua è un pronome possessivo, non un aggettivo, siccome non c'è la sua penna, ma c'è solo sua e sostituisce penna, è un pronome possessivo. Pronome possessivo sostantivato perché è preceduto dall'articolo determinativo, la. 8, perché dobbiamo temere il domani? Domani in sé per sé è un avverbio di tempo, ma preceduto dall'articolo determinativo il diventa un avverbio sostantivato, pertanto può svolgere la funzione di complemento oggetto. 9, mi aspetto il peggio da lui. Peggio è un aggettivo qualificativo, di grado comparativo, e siccome è preceduto dall'articolo determinativo il diventa sostantivato, quindi ci dovete scrivere aggettivo. Numero 8, nelle seguenti vignette individue e sottolinea i complementi oggetto costituiti da pronomi personali atoni. Numero 1, scommetto che lo paghiamo ora, vero? Questo che sta dipingendo con un pennellino. Io scommetto che lo paghiamo ora, che lo paghiamo ora, questo lo, lo paghiamo ora, paghiamo è predicato, soggetto sostentese a noi, paghiamo lui, lo significa lui, quindi è un pronome personale, atono, va bene? 2, come puoi paragonarti a uno zerbino? I zerbini servono a qualcosa, come puoi paragonare te a uno zerbino? Questo T è un pronome personale, atono, ve li ho fatti ripassare ieri. Quindi se non ve li ricordate, subito andate a rivedere. Pagina, mi pare che era 231, se non ricordo male. Ok, 231. Numero 3, aula divorzi, stanotte non ho chiuso occhio, la gioia di questo momento non mi ha fatto dormire. Battutaccia, stupidissima, come se fossero cose allegre queste, comunque. La gioia di questo momento non mi ha fatto dormire, non ha fatto dormire me, questo me, mi, mi e atono. Andiamo al numero 10. Boh, se me la ricordavo non ve la facevo fare questa vignetta. Allora, 10, la sensibilità di elefanti. Ogni tanto la Zordane ha un po' questa sensibilità, ci si trovano nel libro della Zordane cose che possono andare a urtare la sensibilità di voi bambini. 10. Per ciascuna delle seguenti frasi indica con una crocetta se il pronome personale evidenziato ha funzione di complemento oggetto, quindi diretto. Il complemento oggetto, il complemento diretto per antonomasia, vi ho spiegato 8 miliardi di volte, che è il complemento oggetto. Quindi, per ciascuna delle seguenti frasi indica con una crocetta se il pronome personale evidenziato ha funzione di complemento oggetto, diretto quindi, oppure di complemento indiretto. Vediamo, number one. Perché non mi hai detto la verità? Perché non hai detto la verità a me? Quindi, a chi? A che cosa? Complemento di termine preceduto dalla preposizione semplice a. Quindi, complemento indiretto. 2. Ti racconterò tutto dopo cena. Significa, racconterò a te tutto dopo cena. Quindi, questo ti significa a te, complemento di termine, a chi? A che cosa? Ed è preceduto dalla preposizione semplice a. Raconterò a te. Quindi, complemento indiretto. 3. Tutti lo ammirano per la sua lealtà. Cioè, tutti ammirano lui per la sua lealtà. Lui si collega ad ammirano senza bisogno di preposizioni. Quindi, complemento oggetto. 4. Le abbiamo conosciute proprio ieri. Noi abbiamo conosciuto esse, cioè loro, proprio ieri. Quindi, loro si collega a abbiamo conosciuto senza bisogno di preposizioni. Quindi, complemento oggetto. 5. Nonostante il suo comportamento scorretto, la perdonarono. Sta per. Nonostante il suo comportamento scorretto, perdonarono lei. Lei si collega a perdonarono direttamente. Quindi, là è un pronome personale. Complemento oggetto. 6. Vi è stato comunicato il nuovo indirizzo di Fabio. Questo vi sta per. È stato comunicato a voi il nuovo indirizzo di Fabio. A voi. A voi. A preposizione semplice. Quindi, complemento indiretto. 7. Il nonno ci narra spesso delle fiabe. Questo ci sta per a noi. Il nonno narra a noi spesso delle fiabe. Essendo introdotto dalla preposizione semplice a è complemento indiretto. 8. Quelle persone vi temono molto. Questo vi sta per voi. Quindi, quelle persone temono voi molte. Voi si collegherebbe a temono senza bisogno di preposizioni. Quindi, complemento oggetto. 9. Per quale motivo mi fissi in quel modo? Questo mi sta per me. Per quale motivo fissi me in quel modo? Me si collega a fissi. Il verbo fissare senza bisogno di preposizioni. Ergo si tratta di un complemento oggetto. Andiamo all'esercizio numero 12. Nelle seguenti frasi sottolinea il pronome relativo che è in rosso se ha funzione di soggetto. In blu se ha funzione di complemento oggetto. 1. La torta che ha preparato la nonna è squisita. La torta è squisita. Prima proposizione. Che ha preparato la nonna. Seconda proposizione. Quindi siamo di fronte a un periodo. Che ha preparato la nonna. Soggetto di ha preparato la nonna. Ergo che è un complemento oggetto. E va in blu. 2. Mario che di solito è calmo. In quella circostanza si adirò molto. Quante proposizioni abbiamo? Due perché abbiamo due verbi. Il primo verbo è calmo. Il secondo verbo è si adirò. Quali sono le proposizioni? Sono Mario in quella circostanza si adirò molto. L'altra è che di solito è calmo. Questo che è, che è, di solito è calmo. Significa Mario di solito è calmo. Sostituisce Mario. E calmo è un predicato nominale. Dove è e copula. E calmo è il nome del predicato. Che quindi è il soggetto di è calmo. E andava sottolineato in rosso. 3. E cotta la pasta che hai assaggiato? Due proposizioni. E cotta la pasta? Che hai assaggiato? Che hai assaggiato? Soggetto tu hai assaggiato la pasta. La pasta in che hai assaggiato da che cosa è sostituito? Dal pronome relativo che. Quindi che è complemento oggetto. E va in blu. 4. Con i pennarelli che mi hai regalato disegnerò un paesaggio collinare. Con i pennarelli disegnerò un paesaggio collinare. La prima proposizione. Che mi hai regalato è la seconda proposizione. Questo che sta per i pennarelli. Il soggetto di hai regalato è tu. Mi e a me. Complimento di termine. Tu hai regalato a me i pennarelli. Hai regalato a me. Che? Che è complemento oggetto. Va in blu. 5. Chi è quella ragazza che sta parlando con tuo cugino? Chi è quella ragazza che sta parlando con tuo cugino? Sta parlando. Il soggetto qual è? La ragazza. Ma da chi è rappresentato in che sta parlando con tuo cugino? Quella ragazza. Dal pronome relativo che. Quindi che. In rosso. Perché soggetto. Numero 6. In palestra ci sono degli alunni che giocano a palla a volo. In palestra ci sono degli alunni. Prima proposizione. Che giocano a palla a volo. Seconda proposizione. Giocano. È il predicato verbale. Il soggetto di giocano. Chi è? Gli alunni. In. Che giocano a palla a volo. Chi è che sostituisce il nome alunni? Il pronome. Che. Va bene? Quindi che è in rosso perché soggetto. Sette. Vi è piaciuto il libro di fantascienza che vi ho prestato? Prima proposizione. Vi è piaciuto il libro di fantascienza? Seconda proposizione. Che vi ho prestato? In che vi ho prestato? Il soggetto qual è? Io sottinteso. Vi significa a voi. Complemento di termine. Il complemento oggetto del predicato verbale ho prestato. Chi è? Il libro di fantascienza. Il libro. Ma da chi è sostituito in che vi ho prestato la parola il libro? Da pronome relativo che. Quindi che è il complemento oggetto. E va in blu. Otto. Gli alunni che eseguiranno correttamente gli esercizi non saranno interrogati. Quali sono le proposizioni? Gli alunni non saranno interrogati è la prima. La seconda. Che eseguiranno correttamente gli esercizi. Che eseguiranno correttamente gli esercizi. Chi è il soggetto di eseguiranno? Gli alunni. Ma in che eseguiranno correttamente gli esercizi. La parola gli alunni. Da che cosa è sostituito? Dal pronome relativo che. Quindi che è in rosso perché è soggetto. Infine, nove. Vostra madre, che è molto comprensiva, vi perdonerà. Due proposizioni. La prima. Vostra madre, vi perdonerà. La seconda. Che è molto comprensiva. È molto comprensiva. Cos'è? Predicato nominale. È copula. Molto comprensiva. Nome del predicato. Va bene? Molto comprensiva in analisi grammaticale e morfologia è un aggettivo di grado superlativo assoluto. Che è molto comprensiva. È molto comprensiva dunque il predicato nominale. Il soggetto di questo predicato nominale qual è? Vostra madre. Ma in che è molto comprensiva? La madre. La parola madre. Da chi è sostituita? Da che cosa è sostituita? Dal pronome relativo che. Quindi che è in rosso perché è soggetto. Non vi lascio compiti. Ci vediamo. Tomorrow.